Spunti di vista, parliamo del Circolo Tennis Giotto e soprattutto del programma delle attività estive. Lo facciamo insieme con Riccardo Boncompagni, che è responsabile delle attività sociali del Tennis Giotto. Grazie Riccardo per essere qui con noi oggi in studio. Circolo Tennis Giotto, che dobbiamo dire è una realtà ormai storica, tra virgolette, della nostra città. Si sta affermando sempre di più. Avete moltissime attività. Sì, il Circolo è molto pieno di attività. Cerchiamo sempre di inventarne una nuova. Come tutte le stati avremo la nostra 24 ore, che sarà un evento clou per l'estate. E poi giochi in piscina, tante altre attività per il Circolo. Quanti sono i soci del Circolo? Allora, i soci sono 460, le quote sono 460, 460 quote e poi dobbiamo moltiplicarlo per tre, perché ogni quota è un nucleo familiare circa, quindi gira tante persone. E la nostra grande soddisfazione è che in questo momento c'è una lunga lista di attesa per acquistare la quota del Giotto. L'anno di fondazione è 1981. Da allora l'associazione si impegna in attività sportive di vario genere, sociali, culturali e ricreative, perché evidentemente le attività sportive sono quelle prevalenti. Però non soltanto attività sportive, perché ci sono anche delle strutture che permettono lo svolgimento di incontri, per esempio di occasioni anche conviviali. Sì, abbiamo investito molti soldi costruendo un nuovo gazebo, un nuovo gazebo molto bello, dove lì creiamo eventi, riunioni. Il Circolo Giotto vuole essere un punto di riferimento anche per la città, anche per la socialità, e noi penso che ci stiamo riuscendo. Ecco Riccardo, a grandi linee, la struttura nel suo complesso, come è composta? Vale a dire, quali sono i campi, le strutture che vengono messe a disposizione dei soci, anche di coloro che magari intendono poi avvicinarsi alla vostra attività? Allora, il Circolo ha una bella struttura ricettiva per il ristorante, dove Livio e il suo staff hanno un bel ristorante. Dopodiché c'è una bella palestra, un clubhouse dove poter fare riunioni, poi abbiamo due campi da paddol, due campi in sabbia per il beach tennis e il beach volley per l'estate, una bella piscina, prato-piscina, e otto campi tutti coperti nell'inverno. Ricordiamo anche l'impegno del Presidente Benvenuti, che è sempre molto attento alla valorizzazione di questa struttura, e fra l'altro dobbiamo dire che anche negli ultimi anni c'è stato un potenziamento delle strutture che erano state create dai suoi predecessori, oltretutto in una zona anche molto bella, una zona residenziale della città. Abbiamo detto anche il programma delle attività estive, ecco magari se vogliamo così entrare un po' nel dettaglio, perché abbiamo visto fra l'altro anche alcune immagini che si riferiscono alle edizioni degli anni passati. Quest'anno immagino molte saranno riproposte, altre se ne aggiungono. Allora noi abbiamo il 14 giugno la festa di inizio estate, in cui ci sarà una bella serata conviviale, in cui si ballerà e ci rilasseremo. Quindi il giorno, questo è il 14 giugno prossimo. Il 14 giugno. Dopodiché ci prepariamo al 12-13 luglio, in cui ci sarà la nostra 24 ore, che è l'apice dell'estate esotto. Ecco, allora mi devi togliere una curiosità. Questa 24 ore, perché 24 ore è un termine un po' qualche volta abusato, che viene così adoperato anche in diverse situazioni, però dà l'idea del tempo ininterrotto, della manifestazione continua, costante, che inizia a una determinata ora e finisce a un'altra ora. Sì, la 24 ore è stata creata 11 anni fa. 11 anni fa e anche 10 anni fa dormivamo lì ed era veramente tutta la notte. Ora stiamo invecchiando. No, gli abbiamo dato un taglio diverso, perché nella notte poi alla fine era veramente faticoso. E quindi abbiamo mantenuto il nome... E poi ne lo racconti, eh, della notte. Sì, abbiamo mantenuto la 24 ore come nome, come fascino della nostra grande festa. E ci saranno due giorni di festa, il venerdì e il sabato. E nel sabato poi si culminerà nella cena in piscina, che sarà la nostra scena più bella dell'estate, bordo piscina. Ecco, la notte, che cosa facevate la notte? Forse, voglio dire, erano tempi anche un po' goliardici. Sì, erano un pochino più goliardici, sì. Si giocava a tennis tutta la notte, all'una, alle due, alle tre. Poi arrivava la spaghettata, i vicini urlavano, basta, andate a lavorare. Qui si parla degli anni 80? 10 anni fa, anche 9 anni. Purtroppo però le case intorno ci urlavano dalla finestra, basta, andate a dormire. Sono stati anni episi. Però anche ora sarà molto simpatico la cosa. Tra l'altro ci metteremo una bellissima passeggiata il venerdì sera a San Cornelio, dove visiteremo i resti di San Cornelio con la guida, con il presidente dell'ente San Cornelio e quindi per i soci ci sarà anche un pochino di cultura. Ecco, diciamo questo, che soprattutto i sentieri che portano su a San Cornelio, a Castelseco, immagino, all'area archeologica, sono stati anche di recente risistemati, ripuliti e quindi sono, direi, ovviamente la salita rimane, non potrebbe essere altrimenti, però sono abbastanza ben percorribili e quindi può essere anche una manifestazione che può essere fatta anche da molte persone. Abbiamo visto, è un po' quella che è la struttura del circolo tennis giotto, campi da tennis, campo da padre, abbiamo visto questo aspetto organizzativo, però ci sono anche i risultati, i risultati agonistici che vi mettono in particolare evidenza, credo. Sì, il giotto ha due squadre in Serie A, la due del maschile e la due femminile, quindi abbiamo dei grandi risultati nel tennis e poi abbiamo circa 30 squadre, insomma, quindi siamo in tutti i campi e in tutte le città. la mattina della domenica è bello, particolare vedere tutti i ragazzi che partono o arrivano al circolo per le varie partite e le varie squadre che poi restano a pranzo al circolo. Ci divertiamo. Quindi un vostro obiettivo è anche, voglio dire, la divulgazione e lo sviluppo della cultura sportiva e la passione per il tennis anche tra i più giovani, tra gli adolescenti. Sì, già dai campi solari che d'estate sono presi d'assalto, i campi solari a giotto, lì cerchiamo di far capire ai bimbi che è bello giocare a tennis o a paddol e che la filosofia dello sport deve essere sempre sana, deve essere giusta. Allora, vi state preparando a questa serie di attività, che cosa si dice in società, che cosa dice il Consiglio? C'è un po' di, così sono un po' elettrizzati per questa 24 ore. Sì, poi comunque anche il circolo pensa alla beneficenza. Ecco, c'è questo aspetto di mettere in evidenza. Noi abbiamo tre eventi importanti durante l'anno, che è la tombola della Befana, la 24 ore e poi probabilmente nel settembre-ottobre un'altra iniziativa in cui devolviamo a enti o a gruppi un nostro assegno di beneficenza. E quindi questo lo teniamo a fare da tutti gli anni, per anni ormai lo stiamo facendo. Quest'anno doneremo alla All Star, che è un'organizzazione che aiuta con lo sport persone con problemi. Che fra l'altro anche, voglio dire, sono stati anche ospiti della vostra struttura, mi sembra. C'è questa sinergia, questa collaborazione anche che va avanti. Sì, vogliamo aiutare. Vogliamo anche aiutare. Quindi non deve essere solo un gioco, ma deve essere anche un messaggio alla beneficenza, all'aiuto delle persone che ce lo chiedono, oppure li andiamo anche noi a cercare. Certo, Riccardo, per concludere questo nostro spazio, questo nostro appuntamento, chi vuole avvicinarsi al tennis giotto, anche semplicemente seguire più da vicino le vostre iniziative, che cosa deve fare? Allora, la 24 ore è aperta a tutti, quindi la 24 ore si possono iscrivere anche i non soci. Il resto, il circolo, è fatto per i soci e quindi in piscina entra il socio, ovviamente, però ci possono seguire, ci possono frequentare, possono iscrivere i loro figli ai campi solari. Quindi... Hanno molte possibilità e voi li accogliete. Certo, ovviamente, ovviamente. Grazie, grazie davvero a Riccardo Boncompagni, responsabile delle attività sociali del circolo Tennis Gleb Giotto, per avere condiviso con noi questo spazio a spunti di vista. La linea può tornare alla regia. Grazie, arrivederci.